Musica Promuovere, in parte rivendicare, in altra parte rilanciare quello che noi crediamo essere un elemento fondamentale della nostra nazione, della nostra patria, del nostro paese. E' un'iniziativa senza precedenti del Sistema Italia, sostenuta dalla rete diplomatica e consonale, dalla Farnesina, dal Ministero Sviluppo Economico, dal MIPAC, dal Lice, da tutti gli attori del sistema, a cominciare dal Salone del Mobile, la Triennale e il Compasso d'Oro. Quindi un'operazione di sistema per illustrare il significato del design italiano in ogni parte del mondo. I prodotti del design sono i nostri ambasciatori per saper fare in giro per il mondo. Una sede come la Farnesina che accoglie questi ambasciatori mi sembra particolarmente adatta e spero che possano supportare nel lavoro diplomatico il nostro paese per migliorare in giro le relazioni. Triennale è felice di aver coordinato questa prima giornata dell'Italian Design nel mondo. 100 designer che sono andati in giro in 100 città a raccontare che cos'è per loro l'Italian Design, ma anche ad ascoltare, non è un monologo, è un dialogo, per cui anche prendere contatto e confrontarsi con quelle che sono le realtà creative locali. Credo che sia molto importante che le istituzioni ci accompagnano in questo percorso e che promuovano con noi il design italiano nel mondo. Una finestra su tutto il mondo è quello che è il Salone del Mobile. Grazie per la visione!